Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Il titolo di oggi è Quando non posso aiutarti a vendere a casa tua a Bologna? Allora, prima di andare avanti in questo video interessante, che sicuramente creerà un po' di problemi per alcune persone, mi presento, sono Simone Rossi, se non me li conosci, sono il primo agente immobiliare in Italia su 4.500 agenti Remax per numero di case vendute anno 2018, 2019 e 2020. Nessun segreto, mi piace il mio lavoro, ma se sei qui non è per sapere i miei titoli. E quello che ti interessa, come interessa a tutti, è capire esattamente cosa posso fare per te. Ti do un po' di risultati, per cui dati concreti, non millanterie come se ne vedono tante in giro. Mediamente l'anno scorso abbiamo venduto case in un tempo di circa 42 giorni, per cui nel momento che mi conferivano l'incarico in 42 giorni portavolo a capare con uno sconto di solo l'1%. E cosa significa questo? Che mediamente in Italia, nel momento in cui tu chiedi 100.000, ti pagano 89.000, questa è la trattativa media. Con noi invece l'1%, per cui su 100.000 ti portiamo a casa 99.000 di offerte. Quindi significa che affidare un incarico a noi potrebbe essere un investimento in un costo e a livello di tempi, i tempi medi sono 140 giorni in Italia, noi ci mettiamo circa 42. Detto ciò, entriamo nel merito del video. Sotto, se vuoi, ci sono tanti video interessanti, se stai pensando di vendere, puoi cliccare sotto, c'è una campanellina così ti iscrivi al canale, oppure c'è un link sotto per accedere con me e candidare il tuo immobile per quello che ti sto per dire. Allora, quando non possiamo venderti a casa tua? Se tu guardi fuori, ci sono un miliardo di promozioni che dicono vieni da me perché, vieni di su per giù, eccetera, eccetera. Invece, la prima cosa, nel momento in cui fai questo lavoro a un certo livello, che lo fai da tanto tempo, nel mio caso sono 21 anni, adesso qualcuno dirà, no, ma tu non hai 40 anni, ragazzi, io ho 40 anni, anzi 41 tra poco, e quello che succede è che uno che ha lavorato bene, ha tutti i problemi del mondo, ad eccezione di persone che ti chiamano e ti dico, guarda Simone, vorrei affidarti la vendita di casa mia, mia zia deve vendere, mia nonna deve vendere, mia figlia, eccetera. Per cui a un certo punto, è chiaro che anch'io, col corso del tempo, ho dovuto cercare di capire chi potevo aiutare e chi non potevo aiutare, ok? Perché questo? Perché nel momento in cui nella mia testa ho cominciato a pensare che i miei clienti potevano essere tutti, in realtà nella mia testa era come se dicessi che i miei clienti erano nessuno. Perché? Perché nel momento in cui io non ho la certezza di poterti aiutare a vendere casa, sono io che faccio un passo indietro, ok? Questo magari posso dire, ma perché lascio un'opportunità sul tavolo? No, non sto lasciando un'opportunità sul tavolo, sto tenendo la mia reputazione, che è una cosa ben diversa. Mentre un affare in più, un affare in meno non ti cambia la vita, la tua reputazione, che è vent'anni, che spingo, che lavoro, che provo, eccetera, poi si sbaglia tutti per l'amor del cielo, e io cerco di conservarla nel migliore dei modi. Quindi, quando è che non ti posso aiutare? Allora, scriviamo no, e qui scriviamo sì, quando. Allora, la prima cosa che ti accenno è che io non posso aiutarti se non ti dimostri collaborativo quando ti chiamo. Perché nel momento in cui tu candidi il tuo immobile e dici guarda Simone, vorrei fare l'open house, insomma, dopo entreremo nel merito di cosa, vorrei che ci vendessi te il tuo team, la casa, a questo punto tu mandi una richiesta, chiami, segreteria, eccetera, e nel momento in cui arriva, io o chi per me ti fa una serie di domande al telefono che mi servono per capire se effettivamente l'immobile può essere, ok, commercializzato da noi, se credo di poterti aiutare, e una serie di altre cose che diventerebbe abbastanza lungo qui. Per cui devi essere disposto a farti fare una intervista telefonica. Preventivo. Per cui, se tu ti aspetti che ti chiami, mi chiami, ti cambi, ti mandi la mail e io corro a casa tua, io non corro a casa tua. Prima devo capire se posso aiutarti, quindi no, appuntamento, subito. Ci sono mille motivi, tra cui quello che sostanzialmente non ho tempo di correre da tutti quelli che magari non posso aiutare, perché so di non poter aiutare, o ci sono dei motivi oggettivi. Ok? Prima cosa per cui, cambia il tuo immobile, ti chiamiamo, ti faccio alcune domande, o io o chi per me, che mi servono per capire quali sono i tuoi obiettivi, i piani, e se posso aiutarti. Ok? Questa è la prima cosa. Seconda cosa. Ok? Io non faccio visite singole. Per cui, commercializziamo. Casa tua, ci arrivano una serie di richieste. Tua zia chiama, dice, guarda, sono interessato, voglio vederla domani. No, io non faccio visite singole alla casa. Noi lavoriamo esclusivamente, poi nel canale qui trovi un milione di testimonianze del motivo per cui vale la pena farlo, con un sistema che si chiama Open House. Ok? Che cos'è questo sistema? È un sistema tale per cui fai una serie di promozioni iniziali, raccogli tutti i clienti che sono interessati, le concentri ad un unico evento. Per te il venditore ci dedichi due ore e magari la casa è venduta, e noi abbiamo la possibilità con questo strumento di portare tutte le persone e creare concorrenza. Nel momento in cui ci sono più persone interessate alla stessa casa, succede una cosa interessante, che il prezzo si alza in una legge di mercato. Quindi noi lavoriamo esclusivamente così. Per cui se mi dici no, guarda l'Open House, no, perché ho il quadro di mia zia del 14C, non possiamo aiutarti. Noi lavoriamo solo ed esclusivamente con questa modalità, perché la cosa più interessante è quella che ci garantisce il risultato migliore, sia in termini economici che di tempistica per il cliente. Io all'inizio, su questo era abbastanza flessibile, perché cosa succedeva? X anni fa, quando non ero nessuno, andavo a casa delle persone, parlavo di Open House, mi guardavano come se fosse un alieno, ma un alieno scemo, non intelligente. Mi dicono qua da Bologna non funziona, non siamo a Miami, non siamo a New York, tu hai imparato dai tuoi amici americani, ma qua non è così. Ecco, mentre ai tempi potevo sopportare questa cosa, finché finalmente non ho trovato qualcuno che mi ascoltasse e da quel punto non ci siamo più fermati, in questo momento non c'è trattativa, cioè la nostra modalità è Open House. Non veniamo a fare visite singole. Se ti aspetti che noi portiamo una persona a sera massimo, non ci interessa, noi facciamo un unico evento dove proviamo a concentrare tutto, ok? Questo si ricollega a quello che ho studiato. Io ho studiato dai migliori agenti immobiliari in Canada, in Portogallo e negli Stati Uniti, quindi per me è così. Cioè, a me non interessa cosa si fa in Italia, a me interessa quello che funziona nel mondo, siccome anche noi facciamo parte del mondo, applicato con alcune modifiche che nel corso del tempo abbiamo dovuto apportare con la modalità italiana. Ok? Questa è la cosa più importante. La terza cosa che può piacere che sostanzialmente tu sappia sin dall'inizio è che noi facciamo valutazione reali di mercato. per cui noi non accettiamo incarichi tali per cui un proprietario mi dice sì, ma io voglio X in più. Ok? Che significa questo? Come facciamo le valutazioni? Se tu hai un immobile in via Saragozza, 100 da vendere, sono 85 metri ristrutturati, la valutazione noi come te la facciamo? Ti facciamo vedere tre rogiti di casa con le stesse caratteristiche vendute negli ultimi 6-8 mesi nella tua zona, stampiamo i rogiti, te le facciamo vedere e tu vedi che magari lì da te hanno venduto sempre 85 metri ristrutturati 300.000, due civici più là a 290, tre civici più là a 305. A quel punto con questi dati abbiamo la prova concreta di quello che il mercato sta offrendo per una tipologia. Non quello che si pensa, ma quello che il mercato sta offrendo per quelle tipologie. Per cui in conseguenza noi sappiamo che il prezzo è quello lì. Poi col prezzo giusto succede che in open house, vedrai, si riesce a salire anche un po' sul prezzo rispetto al prezzo pubblicità. Io so che magari diciamo ma secondo me è impossibilità, guarda le videotestimoniali, sono commercialisti, dottori, architetti, ingegneri, geometri, stanno, sono lì, cioè non è che, è successo ragazzi, succede sempre, no, qualche volta sì, nel 30% dei casi, un 65% prendiamo il prezzo che abbiamo controllato, un 5% prendiamo delle offerte inferiore che tu sei libero di dire no, non mi interessa. Noi però lavoriamo con valutazioni reali. Nel momento in cui io faccio la valutazione, ti faccio vedere dei dati di fatto e vediamo insieme che la casa vale 300.000 e tu mi dici sì, ok, ho visto, vale 300.000 ma secondo me possiamo chiedere 350, non sono la gente giusta per te, ok? Non sono la gente giusta per te perché non funziona questa roba qui in un mercato di questo tipo e soprattutto noi non non possiamo permetterci di prendere degli immobili insomma che sono totalmente fuori prezzo eccetera, ok? Anche perché è la situazione peggiore per mettersi sul mercato. Perché l'open house funziona e si sale col prezzo? Perché non usciamo al prezzo corretto, vengono un sacco di persone e ecco quando ci sono tante persone il prezzo sale. Nel momento in cui noi partiamo da una cifra troppo alta molte delle persone che oggi sono potenzialmente interessate a comprare cosa tua non ci chiamano neanche e nel momento in cui tra sei mesi decideremo di abbassare il prezzo queste persone ti do una brutta notizia non ci aspettano hanno già comprato da un'altra parte ok? Quarto il sistema funziona quindi non è secondo me ma da me ma no ma la tipologia ok? Ci sono un sacco di testimonianze reali che fanno cancellano scusami il secondo me il secondo bisogna che guardi persone che come te avevano interesse a vendere ci hanno messo la faccia hanno visto che il sistema funzionava ed è lì pronti per essere ascoltato gente che magari ha vissuto esperienze prima di me dove c'era gente che gli raccontava delle cavolate assurde prometteva a mari e monti gli diceva che poi si presentavano con ribassiamo il prezzo perché ci siamo sbagliati la valutazione gli portavano un cliente a sera che giravano non avevano i soldi del mutuo tutta sta roba qui ok? ecco lavorando con me questo problema non ce l'hai ok? però devono essere rinfilate tutte queste varie cose ok? quindi non ci sono opinioni secondo me le abbiamo già testati secondo me le abbiamo già testati tutti in questi 21 anni ok? quinta cosa ok? altrettanto importante io lavoro in un team cosa significa questo? che siamo in tre persone con tre ruoli diversi quindi cosa significa? che per ognuno di noi è affidato una parte dell'attività della vendita per cui ci sono io personalmente che vengo valuto casa tua faccio il piano di marketing che decidiamo su quello che è meglio per fare per promuovere casa tua al meglio in modo che se passa un gatto e lo fermi gli dici ma sai della casa della rosi sì sì guarda ho già visto la pubblicità cioè lo devono sapere tutti questo discorso qui e mi occupo delle negoziazioni per cui vengo a vedere casa tua preparo il piano di vendita faccio la valutazione e faccio la negoziazione col cliente acquerente di fronte ok? poi c'è un'altra persona che si chiama Francesco che invece lui è l'esperto numero uno in Italia di open house ho scritto anche un libro è questo la bibbia dell'open house ok? ho tenuto qui a posto e lui si occupa di questa roba per cui l'evento è creato da lui coinvolge professionisti consulenti dei mutui architetti insomma sono presenti lì e organizza tutta questa roba ok? poi c'è una terza e l'ultima persona che è un avvocato che esercisce tutta la parte amministrativa per cui ti chiamerà per farti mandare i documenti necessari propedeutici per vendere la casa al meglio e soprattutto rientra in gioco nel momento in cui chiudiamo la proposta d'acquisto per organizzare il preliminare per cui hai a che fare con tre persone diverse sono tutte coordinate da me io sono il tuo unico referente ma io non faccio tutto perché io non sono capace di fare tutto o meglio potrei essere capace di fare tutto ma lo faccio peggio rispetto a delle persone che lo fanno dalla mattina alla sera da vent'anni a questa parte ok? per cui devi sapere che avrei a che fare con un tema di tre persone per cui non si può chiamare a me per tutto ok? bisogna chiamare e verrai gestito nei tre settori di cui ti parlavo da tre persone diverse te lo dico perché alcune persone no voglio avere a che fare solo con non è possibile perché io non me ne intendo come lui come l'avvocato su determinati temi giuridici riguardati un preliminare ok? no una persona tuttologo te lo dico perché alcuni mi hanno detto rari ah ma vorrei scusa tu io mi fido ragazzi ecco a me cioè non è che se tu vai dal tuo dottore di base e lui ti manda da uno specialista a quel punto lo specialista non deve avere fiducia perché hai fiducia del tuo dottore di base non funziona così è che ognuno ha una sua specializzazione e io credo fermamente in questa roba ed è quello che ci ha portato a ottenere i risultati di cui parlavo 42 giorni di tempo medio per vendere a casa e sconto del prezzo del massimo l'1% quindi non è male ok? e queste diciamo sono le 5 cose principali ce ne ho un'ultima 6 e la documentazione deve essere in ordine qualche settimana fa sono andato a vedere un immobile la zona era interessante l'immobile era carino e c'erano tutte le condizioni tale per cui ho detto si dai questo questo può essere interessante lo prendiamo ti faccio questa permessa questo lo prendiamo perché mediamente io lavoro con 20 immobili perché 20 immobili perché oltre 20 immobili è impossibile fare tutto quello che facciamo per cui c'è una sorta di giacenza massima di immobili oltre dico non è possibile in questo momento ci sono alcune persone che si candiano per fare un open house compilano il link che vedi sotto e poi dopo vengono richiamate perché magari o sono fuori zona oppure perché in questo momento non è fattibile ok? e sono andato immobili interessanti eccetera visura catastale 65 metri sul posto 112 ho detto guarda signora qui c'è un problema ah ok ci pensiamo dopo quando abbiamo trovato a venire no ci pensiamo adesso io non metto avanti un piano di questo tipo open house pubblicità e volantini online o fly giornali collaborazione con altri agenti per no dobbiamo fare le cose fatte bene per cui subito si prende un tecnico e si verifica che la casa è in ordine ok? se ci sono delle difformità di questo tipo tanto comunque è da fare qui a Bologna e comunque io non parto mai da una situazione di dire poi ci pensiamo perché nel momento in cui ti dici poi ci pensiamo quando poi ci devi pensare hai un problema o di urgenza oppure c'è qualcosa che non va allora siccome non è semplicissimo ragazzi trovare delle persone che sono pronte ad acquistare al miglior prezzo nel momento in cui vogliono comprare al miglior prezzo la garanzia che gli dobbiamo dare noi per ottenere questo miglior prezzo è quello di dire guarda qua ci sono tutti i documenti sono tutti in ordine le puoi verificare col tuo notai vocato geometri ingegneri quello che vuoi la casa si può comprare nel momento in cui è vero che c'è una sorta di pressione di marketing dettata dall'open house eccetera ma è controbilanciata con un acquisto tranquillo consapevole senza problemi viene fuori un mix che è il segreto dei risultati che abbiamo ottenuto ragazzi signori insomma non so quanti anni avete che state seguendo questo è un pochino tutto per cui noi siamo disposti a lavorare solo con persone che sono disponibili a fornirci delle informazioni prima dell'appuntamento noi non veniamo subito prima dobbiamo informarci persone che sono consapevoli che la nostra metodologia operativa garantita si chiama open house funziona ve lo garantisco non facciamo visite singole noi facciamo valutazioni reali di mercato per cui si basano esclusivamente su dati di fatto di quello che è già successo e non sì secondo me oh sì ma io voglio partire da 50.000 in più ci sono testimonianze reali per cui non ci sono anche qui secondo me noi abbiamo un team di tre persone specializzato un avvocato una persona che si occupa solo di open house e io che faccio tutto il resto della negoziazione devono esserci le condizioni per poterci lavorare in modo da garantire all'acquirente un acquisto consapevole soprattutto a tu cioè sapete che le cause più numerose sono il campo delle transazioni immobiliari cioè gli avvocati lavorano per la maggior parte quindi taia su situazioni legate a proposte che c'è qualcosa che non va o che salta fuori o vizi ti do una notizia anche se tu non sai di avere un problema e vendi una casa oggi è comunque un tuo problema cioè non è che perché il costruttore te l'ha venduta così 60 anni fa allora sei a posto non funziona così ok per cui questi sono un pochino tutti i punti c'è un ultimo punto che è quello legato alle garanzie e siamo gli unici che le diamo che significa questo che sono talmente tranquillo sicuro di questo sistema che diamo due garanzie alla persona che ci affida l'incarico e che noi decidiamo di accettarlo la prima garanzia è quello che nel momento in cui noi riusciamo a vendere casa tua nei 42 giorni avrai uno sconto sulla commissione questo perché uno ci sceglie per quello che dico siccome voglio essere corrente con me stesso questo noi te lo mettiamo per iscritto se dopo i 42 giorni hai uno sconto della mia azione secondo punto nel momento in cui noi ti mettiamo in vendita la casa tu hai il piano di vendita il piano di vendita che cos'è cosa faccio e dentro quando lo faccio ok per cui 20 punti su cosa faccio per casa tua e dentro quando lo faccio i volantini entro x la pubblicità il fotografo il reno eccetera eccetera l'open out cioè che cosa è dentro quando nel momento in cui anche solo una di queste cose non venisse rispettata per cui io non rispetto i tempi del piano di vendita tu hai la facoltà di dire Simone è stato un piacere ci sentiamo la prossima volta ma in questo momento io revoco il mandato senza doverti nulla noi lo mettiamo per iscritto anche questo mi sembra un controbilanciare un qualcosa che io sento spesso da parte di proprietari che arrivano magari a noi dopo esperienze vecchie in un'altra agenzia dove ribadisco promettevano mari monti ma dopo di che o sparivano o dicevano di abbassare il prezzo in continuazione o mi dicevano no ma guarda che tutta questa roba qui o non facevano quello che avevano detto per cui garanzia se entro 42 giorni non ti vendo la casa hai diritto a uno sconto della mediazione secondo se non ti applico non metto in pratica quello che è scritto nel piano che alleghiamo l'incarico è la possibilità di revocare questo è un pochino tutto spero che sia stato chiaro e come vi dicevo ragazzi è su selezione questa roba qui devi candidare il tuo immobile non lavoriamo con tutti se possiamo aiutarti te lo diciamo se non possiamo aiutarti con la stessa sincerità te lo diciamo ok è stato un piacere signori ci vediamo al prossimo video sotto hai il link numero verde trick e track eccetera ciao